Perché prova d'orchestra? Un titolo insolito per un congresso insolito che intende, tra le altre cose, promuovere l'idea che la multidisciplinarietà scientifica nella definizione della diagnosi e della cura della malattia sia decisamente un approccio migliore rispetto alla cosiddetta medicina d'organo in cui ci si limita a curare il sintomo o l'organo malato come se fosse indipendente dal resto del corpo e dall'ambiente. Alla discussione scientifica congressuale i giovani cardiologi delle Asla Bruzzesi proporranno otto casi clinici giunti realmente alla loro osservazione. Proporranno questi casi clinici un consesso di valore nazionale e internazionale, valuteranno le conclusioni e le scelte terapeutiche o quelle anche in itinere per suggerire quali possibilità ci sono per fare e per scegliere la terapia migliore per questi pazienti diciamo. Quindi si tratta non di simulazioni ma si tratta di case reali perché tutti i convegni devono avere la funzione fondamentale di far migliorare la qualità di cure dei nostri pazienti. Il presidente del convegno è uno dei più grandi cardiologi europei e mondiali e che mi onora della sua amicizia e che è molto felice di venire a Teramo dove è venuto già altre due volte e quindi di per sé è l'unico che farà una lezione magistrale e da lustro al convegno stesso. E poi altri signi cardiologi non solo faranno parte del panel ma faranno le lezioni storiche sulla storia dei Borboni e sul ruolo di Civitella in questa fase storica. Quindi credo che la storia e il passato non possono essere dimenticati in una valutazione globale della nostra realtà.